In un'era post-moderna, divorando la fantascienza, mi ritrovo a raccontarvi una storia assai spiazzante. Nei non buoni odoranti, scantinati del castello di Spis, timorava la marmotta e gli otro pa. Magnetica, pragmatica ed eclettica, impazziva di esigenza per parta padrona, sulle pietra, l'impulsamatrice. Con essa immobilizzerà tutto il mondo! Ma per cantar vittoria avrebbe dovuto scavare nel cimitero più vicino. Ai giardini dietro! Così tanto logica e trascendente schiavizzò per il cammino. Un geladò, torto e inferiore, ed un'alpaca di carminio. Che si fece cavalcare, cavalcare. Tutto questo promettendo a loro. Rispettivamente l'anglaonema dell'immortalità E la collinsia dell'amore eterno. Avventura lunga, pericolosa, ludica e parecata. Più infetta del sangue, più la sintromi di Kawasaki. L'acidia trionfava di poche crematigli riuscirono a incontrirsi. E per il sacerdale a loro vita, li stava abbandonando. Quando ad un tratto vedrò brillare, più di un lapis lazzurri. Una croce enorme vicino al labirinti. E capirono così che avrebbero coluto dei loro tre sogni. La marmotta, unica amica, fedele della terra, comincio a scappare. E finalmente dopo un'inghie scazzate, riuscì a trovare l'oggetto. Tanto deciderà. Avventura lunga, pericolosa, ludica e parecata. Più infetta del sangue, più la sintromi di Kawasaki. L'acidia trionfava di poche crematigli riuscirono a incontrirsi. E per insazie dalla loro vita, li stava abbandonando. Ma abbastò il suo primo innocente contatto. Arrende la statuaria. E priva di coscienza. Così che i due avventurieri rimasti sopraffatti da gula e dira e da porti. Da una sensazione trappolosa. Affilarono i denti e li affondarono. Su Carmelio troppo. Il tordo si le cò e pàffè.